Eleonora Pace, consigliere regionale. Allora, mandiamo subito al sodo. Il punto della situazione, visto che lei è anche presidente della Commissione Sanità della Regione dell'Umbria, a che punto siamo con questo grave problema rappresentato dall'emergenza sanitaria del Covid-19? Pace. Ciao Mauro, innanzitutto grazie per questo spazio che mi offri e che in generale hai sempre offerto a tutti gli amici narnesi, ogni qualvolta ce n'è stata bisogna. Insieme a te ringrazio anche tutti gli organi di stampa che in questo momento stanno veramente facendo un lavoro serio, un lavoro preciso per cercare di tenere tutta la cittadinanza informata con notizie essenziali e soprattutto veritiere, perché uno dei problemi più importanti che stiamo riscontrando è proprio quello della diffusione delle fake news. Quindi ringrazio tutti quei giornalisti come te che invece fanno della loro professione un fiore all'occhietto, e che ogni giorno ci danno solo ed esclusivamente notizie vere, serie e circostanziate. Quindi grazie di questo e permettimi di rubarti solo un piccolissimo spazio per ringraziare anche tutte quelle persone che in questo momento di grande emergenza per l'Umbria e per l'Italia si stanno spendendo. Allora penso senza ombra di dubbio a tutto il personale medico e paramedico, a tutte le forze dell'ordine che stanno lavorando sul territorio insieme alla municipale per controllare che tutto venga fatto secondo quanto richiesto dalla legge. Ringrazio poi la protezione civile, Cannarni con i suoi due gruppi, quello della Prociv Arci e del gruppo comunale, stanno facendo veramente un lavoro straordinario al COC e in giro per il territorio per rispondere a tutte le esigenze. E poi da ultimo, ma sicuramente non per merito, permettimi di ringraziare una categoria di persone che in questo momento veramente sta dando tutto se stesso per il proprio lavoro e sono tutte quelle donne e quegli uomini che lavorano all'interno dei supermercati e di tutte le nostre botteghe sparse nel territorio comunale perché veramente per garantirci il bene di prima necessità come il cibo spesso e volentieri mettono a rischio anche la loro incolumità e quindi credo che sia giusto ringraziarli perché troppo spesso ce ne dimentichiamo. Quindi grazie veramente anche a loro. Tornando a noi, sì, l'hai ricordato, io dal mese di ottobre sono anche consigliere regionale, ma di là del titolo quello che ci tengo a raccontarvi è dello sforzo enorme che stiamo facendo per tenere in piedi un quadro che sia a livello nazionale che regionale è stato difficile organizzare in pochissimo tempo perché purtroppo il virus non ti avverte, il virus cammina sulle gambe delle donne senza che loro stessi se ne accorgono. Allora mettere in piedi una serie di iniziative importanti sia per il contenimento del contagio da virus e sia soprattutto per dare sostegno all'economia che sarà il vero grande problema che ci troveremo ad affrontare terminata la fase della crescita dei contagi. Posso assicurarti che non è semplice, soprattutto per un'amministrazione regionale che come tutti ricorderanno si è insediata ufficialmente il 3 e il 4 dicembre. Quindi siamo stati travolti da questa emergenza enorme senza avere nemmeno ancora avuto il tempo e la contezza di insediarci stabilmente e definitivamente all'interno della macchina regionale. Al netto di ciò ci siamo rimboccati le mani che ci siamo messi a lavorare sodo sia sotto il profilo strettamente sanitario e voglio ringraziare l'assessore Coletto. Qualcuno inizialmente magari era scettico sul fatto che non fosse Umbro ma provenisse dal Veneto. Invece io posso oggi dire, dopo averlo visto all'opera, che invece aver operato in una regione enorme e strutturata come il Veneto al fianco del governatore Zaia che in questa circostanza ha saputo fare la differenza, i numeri di contagio in Veneto rispetto a quelli della Lombardia lo dimostrano. Devo dire che invece per questa regione è stato un valore aggiunto. L'assessore Coletto all'inizio dell'emergenza quando ancora magari qualcuno anche del governo nazionale sorrideva sulla questione Covid ha immediatamente attivato una task force che con i giorni si è strutturata e ha messo in piedi una macchina veramente mostruosa. Attualmente in Umbra abbiamo una struttura totalmente dedicata ai pazienti Covid che è quella di Pantalla, dell'ospedale di Pantalla che è stato scelto proprio anche oltre che per il fatto di essere una delle strutture se non la struttura più nuova dell'Umbria anche per la sua posizione geografica che taglia esattamente l'Umbria e c'è l'E45 che passa perfettamente lì. E abbiamo l'ospedale di Città di Castello e l'ospedale di Foligno che invece sono parzialmente dedicati ai pazienti Covid perché hanno una struttura tale per cui è stato possibile avere un'ala riservata ai contagiati. E insieme a questi ovviamente i due ospedali centrali di Perugia e di Terni che operano H24 per raccogliere tutti i pazienti. Insieme a questo avrete visto che negli ultimi giorni si è creata e si è circoscritta una zona rossa che è quella di Pozzo dove c'erano stati numerosi contagi e da ieri, sempre grazie a un'altra grande intuizione dell'assessore Coletto che è stata appunto quella dei test rapidi e siamo stati tra le prime regioni in Italia a sperimentarle, già da ieri proprio nella zona rossa di Pozzo è iniziata una tamponatura a tappeto. Tutti i cittadini sono stati invitati a recarsi in una struttura appositamente ricavata all'interno del paese per sottoporsi al test. E lo stesso tipo di tamponatura a tappeto la stiamo facendo in queste ore, anzi ho una buona notizia perché è uscita una nota stampa poco fa in altre due situazioni rosse, tra virgolette, attenzionate che riguardavano le case di riposo per anziani di Castelgiorgio e di Porano. Ti ripeto, è di pochissimi minuti fa la notizia che tutti i test effettuati nella struttura di Porano sono risultati negativi. E proprio tornando a questa cosa che ti dicevo, dei test rapidi che sono partiti da ieri o l'altro ieri, devo dire che sono una grandissima risorsa perché innanzitutto hanno un altissimo tasso di attendibilità e ci permettono innanzitutto di tutelare tutto il personale medico e paramedico perché poi l'avrete letto, sta accadendo purtroppo in tutta Italia che coloro che sono in trincea sono i primi purtroppo ad essere contagiati e spesso e volentieri a rischiare la vita. Grazie a questi test rapidi ai quali poi ovviamente in caso di risultato positivo viene immediatamente effettuato il tampone tradizionale, ci permette di fare una scrematura importante anche all'interno dei pazienti perché già nel momento in cui vengono caricati in ambulanza questo pretest ci permette già di capire come deve essere trattato il paziente e come ospedalizzarlo per evitare la diffusione di ulteriori contagi. Ecco, allora ci avviciniamo alla conclusione per non stancare troppo anche i nostri telespettatori per fare delle cose piuttosto short. Contestualizziamo la consigliera. Hai ragione, perché c'è troppe cose da dire. No, eh lo so, ma tanto ci risentiremo spesso, Leonora. Poi ci chiamo l'etichetta, senza l'etichetta del tu voglio dire perché ho iniziato con il del lei, ma del lei che ci si conosce da una vita insomma. Volevo dire, la contestualizzazione, tu hai detto ieri, ieri parlavamo del 31 di marzo quando hai detto ieri, eccetera. Ecco, quindi stiamo registrando oggi che è il primo aprile, probabilmente andremo online o in serata o comunque nella mattinata di domani di aprile, ieri e oggi va bene. Narni, allora invece focalizzando, visto che noi siamo Narni online, qual è la situazione su Narni, cosa sta facendo il comune, cosa la regione fa per sostenere Narni e anche gli altri comuni? Si parlava anche di buoni spese, mi pare, no Eleonora? Assolutamente sì, allora sono due cose distinte, provvedimenti a sostegno assunti dalla regione e provvedimenti che invece in questo momento riguardano strettamente i comuni, come avrete visto dopo l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio. Brevemente per quanto riguarda la regione, come sostegno in questo momento abbiamo previsto la sospensione del bollo auto per tutte quelle scadenze che partivano dal primo marzo e arrivavano al 30 aprile con possibilità di deruga ulteriore qualora la situazione non si sistemasse. Abbiamo stanziato 224 mila euro per la didattica a distanza, che è un altro tema molto sentito perché oramai tutti i nostri bambini frequentano lezioni online e sarà verificato il problema per le famiglie meno ambienti di non avere purtroppo la strumentazione adatta per permettere ai loro bambini di seguire le lezioni e quindi su questo abbiamo ritenuto necessario intervenire, così come stamattina è stato approvato in giunta lo stanziamento di 380 mila euro a favore degli asili nidi pubblici e privati convenzionati per il problema del pagamento delle rette. Per quello che riguarda invece il discorso che in questi giorni molti di voi avranno sentito fare che riguarda i famosi 400 milioni di euro stanzati dal governo per i buoni spesa, dopo un briefing fatto da tutti i comuni suddivisi nelle zone sociali, il punto è stato praticamente fatto e è notizia di oggi, ripetiamo, che è il primo aprile che sarà probabilmente mentre noi parliamo sarà già online sul sito del comune perché il sindaco ce l'ha comunicato ufficialmente stamattina nella riunione online del consiglio comunale che abbiamo fatto che verrà emesso l'avviso per tutti gli esercizi commerciali che vorranno partecipare a questa iniziativa. Quindi questo avviso rimarrà online 24 ore e tutti gli esercizi commerciali che vorranno accreditarsi come struttura che prende i buoni spesa dovranno rispondere a questa domanda. Da venerdì mattina invece il comune di Narni aprirà il servizio per i cittadini che invece vogliono fare richiesta di accesso a questi buoni spesa e la richiesta di accesso sarà fatta con due modalità diverse o attraverso una mail su un indirizzo dedicato che troverete poi affisso sul sito del comune di Narni oppure attraverso una semplice telefonata. Ci diceva stamattina il sindaco che stanno istituendo sei linee telefoniche per permettere a quanti più cittadini possibili nel minor tempo possibile di riuscire appunto a comunicare la loro esigenza al netto di quelle situazioni preesistenti già attenzionate nel comune di Narni perché oggi purtroppo questo problema si evidenzia non solo in chi questi problemi li ha già avuti ma anche in tanti tantissimi cittadini in tante tantissime categorie che purtroppo dall'otto marzo tengono le loro attività chiuse quindi diciamo che per domenica sera riusciremo ad avere un quadro di sintesi a distribuire questi buoni spesa che ricordo secondo gli importi stanziati dal governo per quanto riguarda il comune di Narni parliamo di 124 mila euro totali a cui si aggiungono 20 mila euro di cofinanziamento fatti direttamente dal comune di Narni che sono andati a prendere dal fondo degli indigenti già preesistenti quindi parliamo di una quota da spartire di circa 145 mila euro per quanto riguarda il comune di Narni da lunedì mattina con altissima probabilità saremo operativi e i cittadini potranno già iniziare a spendere i loro buoni spesa all'interno delle attività convenzionate alle quali chiederemo anche se vogliono, se lo ritengono opportuno di effettuare degli sconti una scontistica per queste persone che avranno accesso presso le loro strutture per spendere i buoni spesa Bene, io direi che è tutto tanto ci riaggiorneremo spesso fino a quando questa emergenza Assolutamente sì Ci auguriamo Assolutamente sì Ecco, grazie Molto volentieri, grazie a te e dico coraggio a tutti gli amici di Narni perché tutti insieme ce la faremo senza ombra di dubbio Grazie Mauro, a presto Ciao Narni Ciao, ciao